In tilt i cicli di fioritura di ranuncoli, anemoni, papaveri e ginestra. Le alte temperature e la mancanza di precipitazioni dell'inverno 2019 hanno colpito duramente il settore floricolo locale, dove il brusco anticipo della fioritura ha saturato il mercato con un conseguente crollo medio dei prezzi del 20%. Lo rende noto col Diretti Liguria per sottolineare le evidenti mutazioni climatiche che hanno portato, nello scorso mese di febbraio, ad avere una temperatura superiore di 1,38 gradi rispetto alla media storica, temperatura che l'ha fatto classificare tra i 15 più bollenti dal 1800 ad oggi. Queste condizioni, precedute da un autunno 2018 anch'esso caldo, hanno sfasato totalmente l'orologio biologico dei fiori, i quali, se con la corretta alternanza stagionale, riuscivano a produrre un numero di fiori per pianta distribuiti equamente nell'arco dell'annata, ad oggi concentrano l'intera fioritura in un periodo limitato, con un picco di produzione che non può essere assorbito adeguatamente dall'attuale mercato. I repentini cambi climatici stanno causando non pochi problemi a questo comparto produttivo, che deve cercare velocemente nuove soluzioni e sbocchi per tamponare l'emergenza. Purtroppo, a causa del picco di produzione generalizzato a tutte le aziende presenti sul territorio, affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa, si è riversata sul mercato un'offerta tale che ha fatto crollare i prezzi rispetto allo stesso periodo dell'anno passato, arrivando per alcuni fiori a registrare il 20% in meno, che sfiora addirittura il 50% in meno per il ranuncolo.